Robi del Sound, Roberto Molinaro La Colonna Portante Tu che hai scritto la storia del Parasar Roberto Molinaro e Maurizio Benedetta I DJ Resident E adesso stai viaggiando Nel mio spazio virtuale Mi chiamano El Paris E sono un pazzo da legare I ragazzi di Susana San Primo A due punti, a due punti da San Sufondo La piazzetta maledetta Gli ultimi istanti con Roberto C'è qualcuno di voi che sa urlare? Ehi! Ehi! Lo posso dire Roberto? Lo posso dire? I gelati sono buoni Te lo dice No, non avete capito Lo dovete dire tutti quanti insieme I gelati sono buoni Te lo dice E poi, e poi cosa ci sarà? A parte che non mi è piaciuto Rifacciamolo di nuovo Se lo facciamo una figuraccia con Roberto E poi volevo ancora presentare questa notte Tutti in classe Chiudiamo la porta ragazzi Silenzio in aula Chiudiamo la porta Seduti nei banchi Arriva il professore E poi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Avviciniamoci alla console e salutiamo Roberto, ragazzi. Lui è Roberto Molinaro. Facciamo Roberto Molinaro. Facciamo Roberto Molinaro. Allora ci siamo ragazzi. Silenzio in aula, si sta per iniziare. Facciamo Roberto Molinaro. No more... 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 No... 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 mille aggettivi milioni di parole un sacco di verbi avete studiato ragazzi? abbiamo fatto i compiti ragazzi? non abbiamo sentito professore professore ladies and gentlemen signori e signori il professore che tutta l'Italia invidia professore di musica elettronica per me un grandissimo piacere presentare qua al Parasar il mio DJ preferito, il numero uno ladies and gentlemen signori e signori Paolo Chighine da questo momento Paolo Chighine Roberto Francesconi Parasar per prima cosa un ringraziamento grande grande a Dario a Gabriella a Pasquale 6666 Andrea Arcadia e Paris Roberto Polinaro Maurizio Benedetta ci siamo o no? Pa-ra-za Pa-ra-za fra-za-ra-za battiamo battiamo perché si questo è il coraggio e si ricomincia è lui o non è lui Torino sulle mani Paolo Chighine Giorgino Giorgino C'è nessuno che grida C'è nessuno che grida Chi? Lui ha una chitarra in forma di cannocchiale Lui ci guarda dentro per vedere dove andare Tu vivi ballando vorresti cambiare la gente Lui mette la musica non gliene frega niente Lui qui C'è chi lo chiama Profesor Profesor Di più Di più Di più Andrà Andrà Urla libera Barassah Barassah Fala Baro Baro Chighine Fica Baro Baro Chighine Baro Baro Chighine Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Fabio. , e a tutti. Spazio! Tempo! Felicità! Dove credi di andare? Dove credi di nasconderti? Come se non è rimasto nessuno! Come stai Parasar? Lo volevi il professore? Quello con la K! K come musica! C'è nessuno che grida? C'è nessuno che grida? Torino Casino! Casino! Caccia! Tu vivi ballando vorresti cambiarla gente! Lui mentre la musica non gliene frega! Niente! Ci vogliono le mani! Te pisci mani mani! Ta 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 ta. Nessuno ci riesce! Ci provano intanti! Io tego duro! Forza! Andiamo avanti! Palle nelle gambe, palle nella testa. Palle, palle nelle gambe, palle nella testa. hai capito perché lo chiamano sta girando tutto intorno è sempre più veloce 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 c'è nessuno che parte le mani nessuno ci vuol credere, nessun ci crederà, si ammassi da le gare, è questa la realtà un saluto all'epce di partia, un saluto all'epce di partia Piazzetta maledetta Boccagneri Mario e Davide monta con quella spada di fuoco perché non vai dal medico ma che ci vado a fare professore, professore, professore Paolo Paolo Chivina Paolo Paolo Chivina Bello Impazzire Paolo Valutiamoci los amicos l'ultimo impero tutti quanti insieme avviciniamoci alla console avviciniamoci dobbiamo dirlo tutti quanti insieme Silenzio in aula c'è molta confusione professore chi ha voglia di fare senso faccia un urlo noi ci siamo noi balliamo non ma no no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il miglior regalo per me, Kigine. Ti entra nella mente e non ti lascia più andare. Su le mani in console, DJ number one, Kigine. Ehi, Kigine, 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 Alvaris. Kigine, Kigine, Alvaris, professore della musica elettronica. Ti entra nella mente e non ti lascia più andare. Seguite il movimento delle mani della console, Parasal. Infazzito. Infazzito. Chi non batta le mani non arriva domani nel compo di noi. La tua specialità, la musica elettronica, professore. La tua specialità, la musica elettronica. Spingi la tua musica, Kigine. Kigine, Kigine. E poi se tu non sai che fare, allora vieni con noi. E' progressione musicale, e vai che sale, e vai che sale. Kigine. DJ number one. Capita poche volte di trovarsi a fianco. Una cosa desiderata come una donna. iscriviti al cyrозale. I virtuosismi della nostra console. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.